buongiorno a tutti oppure buonasera come sempre dipende come tutto nella vita un po dipende io sono antonio vi do il benvenuto a questo corso di lingua italiana livello intermedio avanzato un caloroso buongiorno a tutti i miei studenti benvenuti a questa lezione di italiano livello avanzato io sono antonio in questa lezione ci occuperemo ancora dell'unità 20 del libro avanzato nello specifico tratteremo della seconda parte dell'unità 20 quella relativa alla comprensione del testo e alla grammatica e all'analisi testuale quindi senza ulteriori indugi vi chiedo di andare subito a pagina 110 del libro e di iniziare con la parte b la parte intitolata appunto comprensione del testo che dice leggete il titolo dell'articolo secondo voi l'autore quale soluzione propone quindi si parlerà di un articolo in cui c'è un esperto di ambiente di ecologia che propone una soluzione per ridurre l'inquinamento e qual è questa soluzione vediamo il titolo dice italiani andate a piedi e il sottotitolo dice bravo in tv e soprattutto un geologo del cnr la cultura dell'auto è una pazzia le risorse della terra non sono infinite quindi quale soluzione può proporre questo autore dell'intervista del testo di quello che è ovviamente è la soluzione di lasciare l'auto a casa e di andare a piedi ok qui è proprio è una cosa molto 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 evidente è proprio diretta italiani andate a piedi niente di più e niente di meno senza giri di parole inutili senza nient'altro da dire e poi nel sottotitolo spiega che la cultura dell'auto è una pazzia quindi noi siamo pazzi a pensare che insomma guidare l'auto sia una cosa culturale perché le risorse della terra non sono infinite quindi noi stiamo man mano esaurendo le risorse della terra e quindi ci troveremo a un certo punto in cui saremo senza risorse adesso passiamo direttamente all'esercizio 2 che ci dice leggete il testo e indicate le informazioni presenti ovviamente le informazioni presenti dove le informazioni presenti in basso abbiamo 10 frasi e dobbiamo decidere se sono presenti nel testo o meno va bene leggiamo questo testo quindi italiani andate a piedi bravo in tv e soprattutto un geologo del cnr la cultura dell'auto è una pazzia le risorse della terra non sono infinite quindi ovviamente leggiamo più o meno paragrafo per paragrafo e poi tentiamo di spiegare quello che si è detto ma quale cultura dell'automobile è una pazzia io alla macchina ho rinunciato da tempo abbiamo mai pensato che per portare in giro 80 kg di carne muoviamo 1500 kg di ferro no forse non ci abbiamo mai pensato e non guardiamo all'automobile come a un termosifone ambulante che per circolare produce un'inutile gran quantità di calore non ci sto bisogna essere radicali non basta qualche domenica a piedi per cambiare rotta quindi il testo inizia subito con le parole dell'intervistato che dice che l'automobile è una cosa da pazzi quindi è una pazzia è una cosa irresponsabile avere un'automobile non è assolutamente un qualcosa di culturale lui addirittura non guida più da tanto tempo e specialmente perché insomma la macchina è composta da 1500 kg ok pesa una tonnellata e mezzo in media e tutto questo peso serve soltanto a portare in giro fai 80 kg di carne 80 kg di carne sono più o meno l'equivalente di un maschio adulto ok di un uomo adulto e infatti dice no forse non ci abbiamo mai pensato forse non abbiamo mai fatto caso a questa cosa qua così come non abbiamo mai fatto caso al fatto che l'automobile sia da considerarsi una specie di termosifone ambulante quindi un qualcosa che produce calore e che va in giro per la città lui dice no non ci sto quindi è una cosa tipo bisogna essere radicali quindi quindi non basta qualche domenica a piedi per cambiare rotta questo significa che non basta soltanto rinunciare alla macchina per qualche domenica e tutto sia giusta no per far sì che tutto sia giusti bisogna adottare misure un po più radicali quindi un po più drastiche quindi andiamo avanti parola di mario tozzi noto conduttore di gaia il pianeta che vive ma prima ancora geologo e studioso del cnr mario tozzi oltre a essersi inventato un originale modo di raccontare il pianeta è anche un personaggio curioso in quanto a scelte personali e convinzioni scientifiche quindi chi parla in questo articolo parla mario tozzi che è un conduttore televisivo conduce una trasmissione chiamata gaia il pianeta che vive che si occupa di appunto ecologia e ambiente tutte queste cose qua però prima di essere conduttore televisivo e anche geologo e studioso del cnr che cos'è il cnr il cnr è il centro nazionale per la ricerca quindi questo è mario tozzi e quindi dice che appunto in questo programma si è inventato un modo originale di raccontare il pianeta quindi fa dei servizi molto belli fa dei programmi davvero molto interessanti e poi dice a parte questo ha anche uno stile di vita molto particolare possiamo dire molto curioso dice quindi che lascia le persone incuriosite possiamo dire sia per quanto riguarda le scelte personali come abbiamo detto sia per quanto riguarda le sue convinzioni scientifiche quindi insomma quello che lui pensa riguardo alla scienza e alla tecnologia andiamo avanti credo che ciascuno possa dare un contributo perciò per spostarmi uso scarpe bici mezzi pubblici o una moto che quando sta ferma per tre secondi si spegne automaticamente ma non solo tozzi evita che l'acqua scorra inutilmente mentre si lava i denti e spegne tutti i led luminosi degli elettrodomestici in ogni casa dice ce ne sono almeno tre o quattro se moltiplichiamo per milioni di famiglie significa che ci sono almeno cinque centrali elettriche in funzione solo per tenere accese le lucine dello stereo o della tv fermiamoci qua che già questo è un paragrafo molto molto denso quindi lui dice che insomma la gente debba iniziare a dare il suo contributo all'ambiente quindi anche in piccolo anche iniziando da delle cose piccole come per esempio rinunciare all'auto infatti lui dice che per spostarsi usa insomma andare a piedi quello che lui vuol dire quando dice uso scarpe no vuole andare a piedi va con la bici va con il treno magari il tram l'autobus no tutti i mezzi pubblici oppure una moto molto particolare perché appena è ferma per tre secondi si spegne quindi non consuma benzina e quindi non emette gas dannosi per l'atmosfera e poi è molto attento a non sprecare risorse preziose in casa quindi per esempio quando si lava i denti non spreca molta acqua perché di solito chiude il rubinetto quando non lo sta usando e poi quando non è in casa e quando non sta usando un determinato elettrodomestico magari stacca la spina in modo tale che la lucina no il led luminoso si spenga e poi fa una considerazione dice spiega perché devo spegnere i led luminosi della mia casa devo spegnere tutti gli elettrodomestici uno a uno dice perché anche quando non stiamo usando un determinato elettrodomestico però ce l'abbiamo attaccato con la spina alla corrente elettrica questo consuma consuma energia se moltiplichiamo quel piccolo consumo di energia per tanti 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 milioni di famiglie che vivono in italia abbiamo l'equivalente di energia prodotto da cinque centrali elettriche immaginate i cinque centrali elettriche non una non due ma cinque andiamo avanti lo incontriamo giovedì 17 febbraio giorno di traffico limitato in molte città italiane stamattina dice ho sorvolato la città con l'elicottero per fare delle riprese per gaia e ho visto quello che respiro la stagnante cupola grigia sopra la capitale come ogni giorno quindi l'intervista viene organizzata e ha luogo il giorno 17 febbraio che è il giorno di traffico limitato quindi che possono circolare solo delle determinate auto oppure magari possono circolare soltanto i mezzi pubblici oppure le targhe che finiscono per un determinato numero questo è il giorno di traffico limitato quindi dice lui in quella mattina ha sorvolato la città con l'elicottero quindi si è spostato con un elicottero perché doveva riprendere doveva filmare qualcosa per il suo programma televisivo che è gaia e nel fare queste riprese quindi nel filmare la città dall'alto ha visto tutta questa cupola di gas di cose tossiche che la gente respira tutti i giorni passata un'emergenza ne arriverà un'altra il pm 10 il benzene e gli altri inquinanti sono uno dei problemi sostiene tozzi la questione ambientale ne presenta molti altri il riscaldamento climatico le emissioni la deforestazione quindi qui per adesso abbiamo questa emergenza qua questa della cupola grigia che è sulla capitale sul roma però una volta che passa questa emergenza una volta che il problema rientra possiamo dire arrivano altri problemi per esempio lui dice il pm 10 le micropolveri come il pm 2.5 che abbiamo a pechino il benzene gli altri inquinanti eccetera eccetera però ci sono altri problemi non dobbiamo guardare soltanto questi dobbiamo guardare anche per esempio risaldamento climatico che è un qualcosa su scala maggiore le emissioni di gas di sostanze tossiche nell'aria e la deforestazione quindi il disboscamento quindi il taglio degli alberi poi siamo fuoristrada gli studiosi sono concordi sulla necessità di tagliare le emissioni del 60 per cento gli usa gli stati uniti d'america non vogliono accettare di ridurle del 6 per cento mentre consumano il 25 per cento dell'energia e sono responsabili del 35 per cento delle emissioni capisce parliamo di metri al posto di chilometri i comportamenti individuali sono importanti ma insufficienti occorrono interventi strutturali che sono compito di governi e amministratori purtroppo la politica si muove su tempi brevi la natura ha bisogno di quelli lunghi ok un paragrafo anche abbastanza lungo questo qua quindi dice siamo fuoristrada nel senso non stiamo combinando niente di concreto non stiamo in realtà aiutando l'ambiente perché insomma ci sono dei problemi con le emissioni di sostanze tossiche specialmente per quanto riguarda gli stati uniti d'america che non vogliono ridurle del 6 per cento e allo stesso tempo consumano molto e sono anche responsabili a livello mondiale che qua non lo dice però insomma si parla di livello mondiale sono responsabili del 35 per cento delle emissioni di sostanze tossiche quindi sì ok va bene per adesso avere dei comportamenti individuali quindi fare qualcosa su scala minore quindi su piccola scala su scala ridotta però c'è bisogno anche di interventi ufficiali quindi da parte di governi quindi di stati e di amministratori quindi di politici però la politica si muove su tempi brevi quindi dice faccio una cosa oggi e poi domani basta questo è tempi brevi invece la natura ha bisogno di tempi lunghi ha bisogno di un programma di sviluppo e un programma di protezione ambientale lungo non è che dice lo faccio un giorno e poi basta no non funziona così se oggi proteggo la natura devo farlo anche domani perché altrimenti quello che ho fatto oggi domani diventerà vano andiamo avanti un salvadanaio mezzo vuoto un massiccio intervento sul verde urbano può influire fino al 10 per cento sulla temperatura nelle metropoli risolvendo il problema dell'isola urbana calda il fenomeno per cui in città ci sono da 2 a 5 gradi in più che in campagna ma questo non dipende dal singolo cittadino stiamo consumando un patrimonio che non è infinito energia cibo acqua li traiamo da un salvadanaio già mezzo vuoto abbiamo esaurito più della metà del petrolio e se i cinesi si mettessero a mangiare pesce quanto i giapponesi si dovrebbero addoppiarne la produzione ma non ce n'è abbastanza quindi all'inizio parla di un programma per far sì che le città quindi i centri urbani abbiano più zone verdi in questo modo si risolve il problema del aumento di temperatura in città perché con più verde la temperatura della città si stabilizza ok però è una cosa che come dice non dipende dal singolo cittadino cioè non è che una persona singola può un giorno dire va bene oggi vado per tutta la città e pianto più alberi per dire oppure metto più verde nella città non è una cosa che può fare il singolo cittadino ma lo deve fare l'amministrazione la politica e poi dice il patrimonio quindi le risorse della terra non sono risorse infinite ma sono risorse che in realtà abbiamo già esaurito per metà quello che significa traiamo da un salvadanaio già mezzo vuoto perché la più della metà del petrolio è già finita qua fa un esempio molto particolare perché dice per esempio i giapponesi mangiano tanto pesce se i cinesi mangiassero la stessa quantità di pesce che mangiano i giapponesi si dovrebbe produrre il doppio del pesce che si produce ogni anno però non ce n'è abbastanza quindi non ci sono abbastanza pesci nel mare per far sì che vengano insomma uccisi in scatolati e messi sul mercato non ci sono abbastanza pesci non c'è abbastanza risorsa di questo andiamo avanti la terra conclude tozzi vive da 4,6 miliardi di anni se paragoniamo questo tempo a un metro la presenza dell'uomo equivale a un centesimo dell'ultimo millimetro stiamo imprimendo un'accelerazione che la terra probabilmente saprà sopportare l'uomo no ed è così che si conclude questo articolo insomma zio è la l'impatto dell'uomo sulla terra sebbene sia molto limitato in termini temporali è molto molto esteso in termini di influenza cioè voi immaginate prendete un metro e prendete un centesimo dell'ultimo millimetro di questo metro questo è il tempo che l'uomo ha passato sulla terra però vedete l'impatto che l'uomo ha avuto sulla terra quello che ha costruito e come ha modificato la struttura della terra insomma un cambiamento davvero notevole però questo cambiamento porta con sé una specie di accelerazione nel processo di cambiamento della terra ovviamente la terra probabilmente saprà sopportare tutto questo cambiamento ma l'uomo no l'uomo non può sopravvivere senza le risorse che la terra gli dona dato che le risorse sono limitate comunque ci mettono un tempo abbastanza lungo per rigenerarsi c'è bisogno di rallentare c'è bisogno di evitare lo spreco di queste risorse bene adesso passiamo alle dieci frasi dobbiamo decidere se queste ci sono o non ci sono nel testo quindi col testo già bello abbastanza fresco nella nostra mente nella nostra memoria possiamo rispondere a queste domande quindi uno per il professor tozzi spostarsi a piedi costituisce un comportamento responsabile questa frase c'è o non c'è beh secondo me c'è anzi è proprio la colonna portante di tutto il brano le persone dovrebbero spostarsi a piedi perché sono responsabili nei confronti della terra poi due le auto elettriche sono una soluzione per l'ambiente questa c'è o non c'è questa non c'è non mi sembra di aver parlato di auto elettriche al massimo ha parlato di moto che si spengono dopo tre secondi che sono ferme però sono moto non sono auto poi tre il professore è spesso costretto a usare un motorino per spostarsi in città c'è o non c'è secondo me non c'è anche perché non è costretto che non può fare a meno di usare un motorino insomma è uno dei mezzi di trasporto che usa però non è soltanto il motorino poi quattro gli elettrodomestici che non si spengono del tutto consumano molta energia certo che c'è perché parla dei led perché quando un elettrodomestico è spento però ha la lucina led accesa quella elettrodomestico sta consumando energia quindi questa c'è 5 secondo il professor tozzi l'atmosfera di roma è molto inquinata c'è o non c'è beh certo che c'è quando parla di quando ha sorvolato la città di roma dall'elicottero ha visto proprio questa cappa di fumo e di sostanze tossiche che sono su roma e che gli abitanti di roma respirano tutti i giorni quindi questa certo che c'è 6 l'effetto serra costituisce l'emergenza numero uno per l'ambiente questa c'è o non c'è non c'è perché non parlava nemmeno di effetto serra ma parlava di riscaldamento globale anzi di riscaldamento climatico e non ha proprio toccato l'argomento l'effetto serra 7 ormai tutti i governi sono consapevoli dei pericoli e hanno preso le dovute misure c'è o non c'è assolutamente no i governi non hanno ancora preso le dovute misure ma sono soltanto i singoli cittadini che stanno provando a fare qualcosa per cambiare la situazione poi 8 la campagna ha una temperatura più bassa rispetto alla città questa c'è o non c'è questa a me sembra che ci sia perché dice che in città ci sono da 2 a 5 gradi in più che in campagna quindi secondo me questa c'è 9 stiamo consumando le risorse naturali a un ritmo che la terra non può sostenere c'è o non c'è questo è il contrario perché la terra probabilmente può sostenere questo cambiamento ma l'uomo no perché l'uomo ha bisogno delle risorse della terra poi 10 lo scienziato è convinto che la fine della terra non sia molto lontana c'è o non c'è questa non c'è vero che è pessimista però non è proprio catastrofico quindi abbiamo fatto questo esercizio adesso abbiamo davanti un altro esercizio di creatività cioè potete dare un titolo alternativo all'articolo qua ricordiamoci sempre di non fare i sensazionalisti e pensiamo a un titolo che sia breve adatto e pungente vediamo un po cosa viene in mente a voi a me è venuto in mente qualcosa del tipo considerate il salvadanaio mezzo vuoto usando quindi la metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto se vi ricordate cioè quella dell'ottimista del pessimista però invece del bicchiere usiamo il salvadanaio che fra l'altro era anche uno degli argomenti una delle metafore utilizzate nel testo quindi secondo me ci sta molto bene però ovviamente possono essercene tanti e tanti ancora magari utilizzando qualcosa del tipo se andate in auto siete dei pazzi oppure andate in auto punto interrogativo pazzi punto esclamativo qualcosa del genere va benissimo anche poi andiamo avanti riflettiamo sulla grammatica ok abbiamo dei problemi grammaticali qui nel testo abbiamo letto che il professor tozzi quando si lava i denti non lascia scorrere l'acqua e che spegne tutti i led degli elettrodomestici volgete al passato prossimo queste due frasi anche ieri e date il participio passato dei verbi che seguono quindi iniziamo con anche ieri anche ieri il professor tozzi quando si è lavato i denti non ha lasciato scorrere l'acqua e ha spento tutti i led degli elettrodomestici poi andiamo avanti vediamo questi cinque verbi sono perdere scendere spendere chiudere decidere decidere come fanno al participio passato allora perdere fa perso in realtà si sente anche perduto però perso è molto più frequente scendere fa sceso spendere fa speso chiudere fa chiuso e decidere fa deciso ok questi sono i cinque participi passati dei cinque verbi se avete notato finiscono tutti con so a parte perdere che anche la forma in perduto che però si usa sempre di meno andiamo avanti e facciamo anche quest'altro esercizio questo di riflessione sul testo l'esercizio 1 ci chiede di abbinare le espressioni in blu a quelle a destra che sono di meno vediamo un po leggiamo prima le frasi a sinistra e poi leggiamo le espressioni a destra qui c'è non ci sto bisogna essere radicali ok quindi non ci sto abbiamo detto che sta qualcosa del tipo uofanto e jeg poi qualche domenica a piedi per cambiare rotta che abbiamo detto che cambiare rotta sta per migliorare poi curioso quanto ha scelte personali quindi quanto ha sta qualcosa del tipo gi poi abbiamo ciascuno possa dare un contributo che dare un contributo sappiamo che è qualcosa del tipo poi in funzione solo per tenere accese in funzione significa che sta lavorando che è attivo ok quando si parla di un elettrodomestico che è attivo quindi è in funzione poi fuoristrada qui qua siamo fuoristrada sta per tipo siamo in errore stiamo sbagliando poi sono concordi i concordi sta per sono d'accordo e poi equivale a un centesimo qui equivale sta per tipo xian dang yu oppure dang yu va bene poi a destra abbiamo le espressioni a l'andamento delle cose quindi quello che la volta scorsa abbiamo chiamato il zong qiu shi ok il trend l'andamento delle cose poi abbiamo b dello stesso parere quindi di nuovo d'accordo ok quindi qualcosa del tipo yu xiang thun de guan nian possiamo dire relativamente a ok qui di nuovo è come zhi yu poi lo accetto poi molto lontani questo non c'è bisogno di spiegarlo e poi corrisponde che di nuovo è come dan yu xiang dang yu come vanno vanno così allora non ci sto corrisponde a non lo accetto quindi quel ci sto può benissimo essere sostituito con lo accetto poi qualche domenica a piedi per cambiare il rotta qui la rotta è proprio l'andamento delle cose cambiare l'andamento delle cose poi curioso quanto a scelte personali ovviamente è relativamente a scelte personali 4 ciascuno possa dare un contributo a un'espressione che non ha un corrispondente nella casella verde poi in funzione solo per tenere accese anche non ha nessun corrispondente nella casella verde poi siamo fuori strada qui penso che sia siamo molto lontani che siamo fuori strada poi sono concordi sulla necessità di qui concordi sta bene con dello stesso parere e poi equivale a ovviamente sta per corrisponde quindi può essere sostituito con corrisponde a va bene adesso facciamo anche il prossimo esercizio poi vi lascio liberi di andare il prossimo esercizio quindi siamo a pagina 112 numero 2 dice così nell'articolo abbiamo visto l'espressione dare un contributo nelle frasi che seguono sostituite le parti in blu con i modi di dire dati nel riquadro quindi i modi di dire dati nel riquadro sono dare retta che sta per ting morand hua poi dare il via a che sta per kai pi poi abbiamo dare per scontato che sta per xiang dan ran questo è dare per scontato quindi quando si pensa che qualcosa sia dovuta oppure scontata poi dare carta bianca che è corrispondente di gay ziyou chu li chuan oppure gay chuan chuan questo è dare carta bianca a qualcuno poi dare ai nervi che corrisponde a rang moran xin fan quindi questo farà arrabbiare qualcuno metterlo insomma in una situazione spiacevole quindi questi erano i modi di dire che dobbiamo utilizzare nelle frasi adesso leggiamo le frasi nonostante fossi nuovo il direttore mi ha dato piena fiducia quindi la colpa è tutta sua ok qui questo dare piena fiducia significa proprio fidarsi completamente di una persona e dire ok qui fai come vuoi tu io mi fido di te completamente e quindi a cosa corrisponde? corrisponde ovviamente a dare carta bianca quindi il direttore mi ha dato carta bianca quindi la colpa è tutta sua eccetera eccetera poi due poco prima delle elezioni il governo ha fatto iniziare i lavori per un'opera annunciata nelle elezioni precedenti qui ha fatto iniziare quindi qui è proprio ovvio che fare iniziare sta per dare il via quindi ha dato il via ai lavori per un'opera annunciata nelle elezioni precedenti ok questa è una situazione politica molto comune cioè la gente che promette 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 e poi non fa mai niente poi tre tesoro ascolta tuo padre c'è tempo per gli amori ora pensa a studiare qui ascolta no come abbiamo detto è è proprio dare retta quindi dai retta a tuo padre ok qui ci vuole il a la preposizione a perché dare retta è un verbo non transitivo quindi è un modo di dire non transitivo quindi ci vuole la preposizione quindi ascolta tuo padre col tuo padre complemento oggetto diretto diventa dai retta a tuo padre con tuo padre che diventa complemento di termine quindi oggetto indiretto poi a volte la tua presunzione mi infastidisce specialmente quando non ammetti che ho ragione io quindi immaginate una persona che è molto presuntuosa go out e allora la tua presunzione mi infastidisce cioè mi dà fastidio qual è un altro modo per dire mi dà fastidio è ovviamente mi dà ai nervi specialmente quando non ammetti che ho ragione io poi 5 il mio ex marito era sicurissimo che avrei abbandonato carriera e amici ex marito appunto quindi essere sicurissimo ovviamente è dare qualcosa per scontato quindi il mio ex marito dava per scontato che avrei abbandonato carriera e amici poi dice ex marito appunto perché si sono lasciati perché questa persona qua non ha abbandonato né la carriera né gli amici va bene per questa volta penso che possiamo benissimo fermarci qui e poi continuare nella prossima lezione nella quale affronteremo il lessico e poi ovviamente ci saranno delle parti relative al parlato e alla scrittura io come sempre vi auguro buono studio e buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo episodio alla prossima lezione ciao 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 ciao